In questo video parleremo della DHD, conosciuto anche come disturbo da deficit di attenzione ed iperattività e del suo impatto sul funzionamento motorio dei bambini e dei ragazzi che ne sono affetti. ADHD è l'acronimo di Attention Deficit Iperattivity Disorder ed indica un disturbo del neurosviluppo caratterizzato da iperattività, impulsività ed incapacità a concentrarsi, che generalmente si presentano prima dei 12 anni di età. La disattenzione si manifesta attraverso comportamenti caratterizzati da divagazione dal compito, mancanza di perseveranza e disorganizzazione. Nello specifico si può osservare la tendenza a non prestare attenzione ai particolari o a commettere errori di distrazione e la difficoltà a mantenere l'attenzione sui compiti e le attività di gioco. Spesso inoltre i bambini con ADHD sembrano non ascoltare quando gli si parla direttamente, non seguono le istruzioni e non portano a termine i compiti. Hanno inoltre difficoltà ad organizzarsi nei compiti e nelle attività e provano avversione o evitano compiti che richiedono uno sforzo mentale protratto. Perdono spesso oggetti e materiali, sono facilmente distratti da stimoli esterni e possono apparire sbadati. L'iperattività consiste in un'attività motori eccessiva in momenti in cui essa non è appropriata, quale ad esempio un continuo di menarsi, tamburellare o una velocità continua ed insistente. L'impulsività fa riferimento ad azioni che avvengono di fretta, all'istante, senza premeditazione e con un alto potenziale di danno per sé o per gli altri. Di solito riflette un desiderio di ricompensa immediata o la difficoltà a ritardare la gratificazione. I bambini con ADHD spesso si agitano fisicamente e lasciano il proprio posto in situazioni in cui dovrebbero rimanere seduti, scorazzano e saltano in contesti in cui farlo risulta inappropriato ed hanno difficoltà a rispettare il proprio turno. L'iperattività e impulsività si manifesta anche attraverso il canale verbale. Tendono a parlare molto, forniscono una risposta prima che la domanda sia stata completata, interrompono gli altri e possono risultare invadenti nei loro confronti. Esistono tre sottotipi di ADHD. Il tipo combinato, quando sono presenti in ugual misura i criteri di disattenzione e perattività e impulsività. Il tipo con disattenzione predominante, quando è presente in misura maggiore la componente disattentiva. Ed infine il tipo con iperattività e impulsività predominanti, quando sono presenti prevalentemente gli aspetti di iperattività ed impulsività. Nei bambini e nei ragazzi con ADHD possono spesso manifestarsi ritardi nello sviluppo del linguaggio motorio e sociale. Di frequente si osservano anche bassa tolleranza alla frustrazione, irritabilità e umore labile. Le prestazioni scolastiche sono talvolta compromesse anche in assenza di un disturbo specifico dell'apprendimento. Diversi studi sulla popolazione indicano come, nella maggior parte delle culture, l'ADHD si manifesta nel 5% dei bambini. Ormai da tempo la ricerca ha dimostrato come i sintomi dell'ADHD interferiscano con le competenze motorie. I problemi motori hanno infatti un'incidenza compresa tra il 30% e il 50% nei bambini con una diagnosi di ADHD. È stata inoltre osservata un'associazione spesso frequente tra l'ADHD e il disturbo evolutivo della coordinazione motoria. I bambini con ADHD ottengono spesso punteggi bassi nei test che valutano lo sviluppo motorio e presentano deficit nelle competenze sia grosso-motorie che finomotorie. Per quanto riguarda i deficit nelle competenze grosso-motorie, queste possono consistere in problemi di coordinazione, ridotto controllo, tempi di reazione lenti e deficit di equilibrio. Nello specifico è stato osservato come i deficit di equilibrio si manifestano attraverso oscillazioni motorie più frequenti e più ampie in compiti che richiedono di mantenere l'equilibrio, con conseguente scarso controllo dell'equilibrio stesso. Ciò significa che, ad esempio, i bambini con ADHD possono fare più fatica a stare in equilibrio su una gamba sola, tendono ad avere un'ondatura meno regolare e presentano maggiori problemi di controllo posturale. Si è osservato inoltre come questi bambini siano maggiormente in difficoltà nello svolgimento di compiti che richiedono l'utilizzo della palla, come ad esempio il dribbling. Per quanto riguarda le competenze finomotorie, la ricerca ci dice che sono i bambini con ADHD di tipo inattentivo ad essere maggiormente in difficoltà. È stato osservato, ad esempio, come questi bambini siano meno competenti e più lenti in compiti che richiedono l'utilizzo del pollice oppositivo in modo sequenziale, come ad esempio suonare uno strumento musicale oppure afferrare e lasciare un oggetto servendosi anche del pollice. Allo stesso modo sono meno precisi e meno stabili in compiti quali il tracciamento a spirale, il riempimento di punti, l'utilizzo di pinzette, palline e l'inseguimento. Inoltre, in questo tipo di attività effettuano più correzioni e più di frequente compiono movimenti a scatti. Restando sempre sul versante delle competenze finomotorie, anche la qualità della scrittura e dei disegni risultano compromessi, soprattutto nella DHD di tipo inattentivo. Diversi studi e ricerche hanno infatti dimostrato come le competenze finomotorie correlate alla scrittura siano commisurate alla gravità dei sintomi di disattenzione. Un dato scientifico interessante consiste nel fatto che il metilfenidato, il farmaco di elezione nel trattamento della DHD, è stato osservato avere un effetto migliorativo sulle difficoltà sia grosso che finomotorie dei bambini con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Nello specifico, nei bambini trattati con tale farmaco, si è osservato un miglioramento nel controllo della postura e nelle capacità di equilibrio, ma anche una riduzione della compromissione della destrezza manuale ed una migliore qualità nell'esecuzione di scrittura e disegni. Grazie a tutti.